Ciao a tutti i lupi del tubo, sono Charlie e benvenuti in questo nuovo pre-video Allora, non so se continuerò a farli oppure rimarrò comunque con la mia solita intro Perché non so se vi piacciono questi piccoli video introduttivi Allora, cosa devo dirvi? Vi devo dire che sono uscita dal Devgods Cioè, non è che sono uscita, diciamo che si è semi sciolto, è successo qualcosa Però comunque siamo ancora tutti amici, non è successo niente, tranquilli Non è che sono uscita perché volevo uscire, ma cioè Semplicemente è andata così, cioè non siamo più un gruppo Però comunque siamo rimasti amici E ho deciso di fondare una mia community dove farò tantissime idee ragazzi Ho già iniziato a realizzarne alcune e stanno uscendo benissimo E voglio invitarvi nella mia community In che senso? Qui nella descrizione troverete il link del nuovo TS Che ho già settato, è bellissimo E cosa potrete fare? Potrete creare le vostre istanze temporanee E se vedo che siete attivi sul TeamSpeak Che vedo sempre, vedo sempre le vostre istanze, vedo sempre a giocare Ovviamente non metto i 4 su 24 perché tutti hanno la loro vita sociale Comunque se vi vedo spesso Riceverete il friend e quindi potrete stare nelle istanze con noi Potrete parlare con noi, faremo amicizia Giocheremo insieme Ovviamente questo dopo un bel po' che vi vedo attivi Sul TeamSpeak Ripeto, trovate in descrizione il link L'IP E trovate anche delle istanze già fatte Tipo volete giocare agli Skywars Non dovete creare una stanza apposta C'è già la stanza Skywars E poi cosa volevo dirvi? Ah sì, settimana prossima Al massimo il mese prossimo Aprirò un server tutto mio Insieme ad altra gente È sempre parte della community Che si chiama Muppets So che vi sembrerà strano questo nome Ma presto capirete perché È una sorpresa Insomma la community dei Muppets Faremo anche un server dei Muppets Faremo tante 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 belle cose E non vedo l'ora di iniziare Cioè abbiamo già iniziato e sta già uscendo bene Però continueremo, ci evolveremo sempre di più Faremo il sito, faremo il launcher Tantissime cose abbiamo in mente E vi giuro, vi prometto che le porterò a termine tutte Ok, termino questa mega intro Vi ricordo di lasciare mi piace se volete altri episodi di questa bellissima mappa E noi ci vediamo Nel video che partirà adesso Ciao a tutti i dubbi del tubo Sono Charlie e benvenuti in questo nuovo video In compagnia di Rescorpio98 Ciao a tutti E di Dregote Bene ragazzi Oggi siamo qui sulla diversity 2 Esatto Allora E come potete notare ci stanno un sacco di blocchi giganti intorno a noi Molto belli Molto belli Siamo in Minecraft 1.8 Perché appunto la mappa diversity 2 È stata creata per 1.8 Ed è il continuo di diversity 1 Ed parla praticamente Dobbiamo completare un monumento Attraverso diversi minigame Scusami Esatto Diversi minigame che ci sono Ok possiamo cominciare Esatto Allora qui c'è subito una plessur Quindi Oddio Sono già morta Sono già morta Ok Andiamo a prendere l'introduzione Perfetto Andiamo a mettere dentro la cesta Oddio Un deadbush Ok Dovrebbe succedere qualcosa Dovrebbe Vediamo un po' Aspetta un attimo Tipo Cos'è che dovremmo fare? Escono scritte arabe Vai provare Oddio C'è aperto C'è aperto C'è aperto Ok Ok Qua si è aperto Un qualcosa Oh Diversi di due Wow Adesso ragazzi Già vedo una cesta Allora andiamo Prendo prima io No No Prima io Prima io Ok Ok Non lo buttate sotto Get rich quick Ah Qua praticamente ci parla Di tutte le regole Che sappiamo praticamente tutti Da 1 e 3 player 4 gigabyte Non so Vabbè ragazzi Queste qui sono le Le solite Sono le solite Stronzate In fisicità Le regole Comunque Le cose che dobbiamo Tener conto Andiamo Vediamo Andiamo a vedere Ok Oddio C'è una bella Una stanza strana Con una cesta vuota E cosa dobbiamo fare? E qui ci sta un pulsato La prima io La prima io E dai La smetti Inser the wool In su de cesta Vai metti la wool Nella cesta E vediamo cosa succede Aspetta Mi sa che c'è qualcosa Sopra Che succede Eh sì Perché stanno Oddio In pratica noi dobbiamo Scegliere cosa fare Allora facciamo a caso Io direi escape Mi piacciono le escape Vai escape Iniziamo con questo Allora basta che tocca uno E si apre Allora praticamente Dobbiamo metterci tutti qui Vai Ecco se dobbiamo cliccare Penso Ok ci stiamo trasportando Ok ok Non muovetevi Non muovetevi Ok Ecco Perfetto Siamo qui C'è qualcosa qui Ritorna tua Ritorna tua Direi di no C'è una piramide Ok Andiamo dagli agizzi Andiamo dalla piramide Andiamo dalla piramide Arrivo prima io Arrivo prima io Arrivo prima io Arrivo prima io Oddio no Sì sì Io ho spinto Non è giù Oh Aspetta Scorpione Sto arrivando prima io Arrivando E che forte di me Ok allora tipo Qui ci sono dei blocchi strani Aspetta aspetta Guardiamo prima cosa Ok io mi puto Faccio da cavia Oddio Oddio sono morta Siamo tutti morti Ok siamo Ok in pratica Siamo qua In una galera Credo Qui c'è Oddio Oddio Ho sponato qualcosa Che forse non dovevo sponare Oddio Dobbiamo risalire da qua Oddio Salta salta Corri 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 Dobbiamo scappare da vari tipi Ok qui e qui è una strada bloccata Rega A meno che C'è qui un pulsante Vai Premi Cosa Cosa Questa C'è aperto un buco Vai C'è Ma Sembra Era la prima prova Quella studio Guardate qui c'è C'è della roba Non c'è molto tempo Di L'agirlo Quindi andiamo avanti Che mi ha dato un libro Leggi Cosa Dice Le cose varie Tiene Cosa Dici Non voglia Di Uffa Ma è troppo Ma è troppo Fidati È brutto Leggerlo Noi perdiamo tempo Noi siamo troppo faste Ok Dobbiamo praticamente trovare La bull La bull Penso La Dobbiamo trovare Non lo so Io non ho mai giocato a diversity Io si ho fatto la 1 Quindi più o meno So che è un po' stronza Quindi state davvero tranquilli Ok bene Che è dell'acqua Aspetta Non so se si può salire Io vedo se si sale No non si va Sotto non c'è nulla Ragazzi qua c'è una stanza Non dobbiamo rinforzare a salire Eccolo Vedi Charlie subito ha capito Eh ma io sono la più intelligente qua Eh Oh non mi prendere a cazzo Ok sì Qui c'è tipo un creeper C'è la faccia da un tipo che vuole prendere punte C'è un creeper gigante Praticano iniziamo scappando Nel senso che siamo Ricarcerati Aspettate Qui ci sono due strade Allora dividiamoci Io salgo Tu tre Vai qua Ok 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 No qua è chiuso Aspetta aspetta Ok ok ho trovato una stanza strana E io vado qui Oh no Ma l'hai fatto morire Oddio ragazzi Allora return to hub Non credo E qui ci stanno un sacco di strade Con questa cosa fa Oddio Cosa c'è? Cos'è? Oddio non sa Aspetta aspetta aspettate Allora voi aprite io corro Provate Vedete Sei sicuro che bisogna passare per qua Il fatto è che l'acqua appena la apri Quindi non Eh no Sono rimasto Pronto via Eh ma guarda non c'è tempo No Guarda Sì ma sono rinchiuso Ahia È difficilissimo Riapri Eh no Charlie dove è? Io sto andando a fare un altro Aspetta vieni di qua Forse non è la strada giù Ok ragazzi Ho trovato una strada Ho trovato un emerald Anc Can be placed On Ho capito ragazzi Ragazzi ho capito cosa bisogna fare Vi spiego Allora Alla fine di ogni Di ogni Rabirinto tipo Di sta roba qua strana C'è tipo Un Un blocco di Di qualche materiale Sì E noi dobbiamo Praticamente Piazzarlo Piazzarlo Qui Qui Nel suo rispettivo Ora Hai visto Sono troppo intelligente Ok io vado in quello blu Io vado nel blu Ma vedete che il blu è difficilissimo Dove cacchio che devo andare Ok Oddio Io sto facendo il rosso E non è difficile Per il momento Ok raga Io sto per andare a piazzare il blocco giallo Ok perfetto Io invece sto cercando di fare il blu Ma non credo Di essere impossibile Non l'ho piazzato Ma non c'è Non c'è una via di uscita Fidati Eh per questo Mi troverà bene Comunque ragazzi Mi raccomando Lasciate mi piace Fateci sapere se è questa Porco Serie vi piace Se questa Mi piace Ma dio Odrego ma sei stupido No Fa abbastanza Ieri fa fesso Ma tipo non riesco a Ce l'ho fatta la prima volta Non ce la farò mai più Come ti permetti Scusa e tu vedi un corridoio e non lo percorri Fammi capire Lo percorso non c'è niente Ma ragazzi lo sapete che Tu quel fesso Lo sapete che se morire E vedi che c'è una leva qua Sì l'avevo vista però Quando è che ero passato io era scomparo Esatto E quello è quello che era successo Manca solo il blocco rosso È il blocco rosso Tipo che sia l'impossibile Da prendere Sì ma guarda quando devi saltare Guarda quanto devi saltare Vabbè Il problema è che non ci riesco a saltarla Manquella Vediamo Vediamo dai Vai pure Grego Vai vediamo come fai Aspetta Impara Guarda impara Vai vai Grego sembra uno bravo in queste cose Vediamo un po Bravissimo Bravissimo infatti Ah vai 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 salta e ti do un cazzotto Ma non Ah scusa Vieni qua Scorpion vai Vai Dimmi tu Vai dimmi tu quando devo darti il cazzotto Eh non lo so Vai Mentre salta Vai Vado Non ce l'ho fatta a prenderti in tempo Ce l'ho fatta Ok Vedi Te l'ho detto Vai Amazing Oddio ce l'ho fatta anch'io Eh vedete Fantastico Bisogna mettere un punto e un punto e un punto alla fine Ok aspettate Dai abbiamo preso anche il rosso Allora adesso andiamo alla fine E possiamo mettere anche il rosso Oddio come Ce l'ho fatta pure io Era semplice Vabbè dobbiamo suicidarci No no Hai visto perché c'è la leva Ah non ho visto la leva C'è sempre la leva Charlie guarda ti devi No Scorpion ti devi buttare qua Esatto Sì sì vai Scorpion vai Sì fidati ti devi buttare là Vai Ma se l'uscita è qua Aspetta Ah c'è un bottone C'è un bottone Corri Correte Oddio No Come funziona sta roba È un po' difficile Ok pronti Veloci 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 Correggere No No Sono caduto all'ordine Sono caduto all'ultimo blocco Corri e salta Corri e salta Pronta Charlie Correte veloci C'è già lo possiamo fare No Saltando è impossibile Corri e salta Oh vai Ok io sono qua però Venite qua venite qua Ok ragazzi ho dovuto Trasportarmi Forse ho anche rotto la mappa Però purtroppo Ho avuto questo problema Qui c'è un tipo Una strana Guarda guarda Qui Comunque raga Adesso abbiamo raggiunto Questa stanza qui Che è molto strana Praticamente dobbiamo premere Dei tasti E non capiamo bene Ah ma tu intendi questo Allora si aspetta Forse ho capito Dove c'è stato Qua guarda Direti Here Ah no E allora no Aspetta Mi sa che c'è un tasto In ogni Angolo Ti apre Ah 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 Non sai che hai capito Anche ho capito forse No Come li dobbiamo sistemare Così forse Così forse Ma non erano tutti così Dobbiamo ricordare Tutta la procedura Dobbiamo ricordare L'ordine che stava lì E che ordine stava Eh dobbiamo cercare Allora No aspetta Fatemi capire un attimo Quale ordine L'ordine L'ordine della La posizione della testa Ok qui c'è una testa messa così Ah Quindi quella va messa così Ragazzi ho capito tutto Ok quella Sì sì Andiamo Sì sì Andiamo di qua Vabbè Praticamente In basso a sinistra In basso a sinistra Cos'è Quella sinistra è giusta Sì Sì La quella sinistra Così Vai Al contrario In basso a sinistra Eh così Vieni qua a vedere Eh Vado a vedere subito No aspetta Quella No quella di destra Giustra 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 Vado a vedere L'ultima Aspetta Sì è giusta così Esatto Per me è sbagliata Quella sinistra Vado a guardare No quella sinistra è giusta Quella in basso Quella sinistra è giusta Anche con la destra Appena controllato Dovete vedere quella in basso Quella in basso Vuoi vedere che Quella in basso Era verso destra Così Si ha aperto Hai sbagliato Si ha aperto Si ha aperto Si ha aperto Sì Ok aspettate che Qui c'è un'altra strada Con delle scale Eh C'è il piano di sopra Ecco E poi ci incontriamo Praticamente Ho aperto qualcosa Arriviamo Ok passiamo Qui c'è una chest Vado Vai No Vai Non si può andare Si va di qua forse Venite venite Ci parli al piano di sopra Sono qua E mano Ma qui C'è una testa C'è una testa Con delle Oddio 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 Che Che Infarto Vado Mi sono cagato sotto Che è qua la roba Oddio Come facciamo Aiuto Come faccio a scendere Scusa Aspetta Di dove si va Di qua Charlie vieni No ragazzi Non l'avete capito Non l'avete capito Oddio Evil Che cazzo Ma scusa Ma non muore Ma non muore Ma non muore Aiuto Ciao Siamo Buoni Ok ho trovato la bull Oddio Dove è la bull Oddio Andiamo via Oddio Oddio Metti Dove era la bull Metti dentro Oddio Ok Ragazzi no Ragazzi no Mai più Mai più Mai più Nella vita Questa mappa è fatta Forca Questa mappa è fatta Benissimo Cavolo È fatta benissimo Effetti sonori E tutto Va bene ragazzi Noi abbiamo finito Noi ci rivediamo Questa era la prima prova Io sono rimasta sconvolta Mi riesce più a fare Oddio Oddio che infarto È una tostissima Spero che questo video Vi sia piaciuto Esatto Vi ricordo di lasciare mi piace Più mi piace riceverete Più Più serie Più puntate avrete Di questa serie Un like Ovviamente ragazzi Passate nei canali Dispettivi Esatto Passate nei canali Di Scorpio Di Dregote Che trovate la descrizione È mio Di Dregote Che trovate la descrizione Di Scorpio È mio È di Scorpio Eh Ci rivediamo in un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Bella Ciao a tutti Ciao a tutti